Alla festa dell'Onav presente anche chi rappresenta tutte le aziende della provincia di Asti, il vino è un comparto importante e credo sia un motivo di orgoglio e d'onore il fatto che l'Onav nasca qui e qui continua la sua attività e la sua serie istituzionale. Sì, certo, l'Onav è nata qui ad Asti ma è nata soprattutto nella Camera di Commercio di Asti e quindi è un'associazione che ha avuto una grande crescita esponenziale negli ultimi anni, addirittura è andata oltre che essere presente in quasi tutta Italia, ha cominciato ad andare anche all'estero, in alcuni paesi esteri, sta continuando questa internazionalizzazione perché comunque valorizza enormemente i vini locali, i vini nazionali e soprattutto il prodotto del vino che fa parte di un pezzo importante dell'economia di questo territorio e dell'intero paese. In un momento di difficoltà generale, quando anche le Camera di Commercio ha ruolo, bisogna ancora comprenderlo pienamente, anche sulla base delle risorse ci saranno e quali ci saranno, insomma un momento non facile, che cosa si può fare per aiutare il mercato del vino per Asti che è così importante? Beh sicuramente fare sistema, oggi siamo qui insieme a alcuni produttori vinicoli importanti, insieme ai presidenti della Camera di Commercio degli ultimi periodi, quindi abbiamo una rappresentanza importante delle istituzioni e comunque io credo che la cosa importante è fare rete tutti insieme perché le risorse sono molto importanti ma è molto importante anche riuscire a fare rete e le poche risorse che ci sono concentrarle su degli obiettivi precisi. Noi abbiamo un concorso della Duia d'Or che è un concorso che sta diventando sempre più importante grazie anche all'Onava che ha un importante ruolo di selezione e su questo stiamo cominciando ad andare avanti anche con ulteriori progetti molto importanti che stiamo definendo in questi mesi e che appena saranno più concreti ve ne parlerò.